Buongiorno a tutti quanti! Buongiorno a tutti, belli e brutti! Come dico sempre un buongiorno da Michelone e da Jay 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 Jay. Florenzi, che mi combini, Florenzi? Che mi combini, Florenzi? Anche tu sei dentro a questo questo vortice scommesso. Cosa hai combinato, Florenzi? Contro chi hai scommesso? Per chi hai scommesso? Porca miseria, Florenzi. Di tutti mi aspettavo, ma non di te, non da te. E insomma è venuto fuori un altro nome, sempre uno. Ma che vi avevo detto io? Adesso vediamo la sosta delle nazionali, cosa succederà. Pensavo, pensavo, pensavo che veniva fuori qualche altro nome della Juventus o qualche altro scandalo della Juventus, ma poi ho pensato fra me e me. Siccome noi abbiamo già la partita del 26, ci faranno già l'imboscata lì! Ci faranno già l'imboscata lì! E che problemi ci sono? Prima, prima rompiamogli le scatole definitivamente al Milan per affossare prima loro, no? Così mettiamo fuori dei giochi totalmente prima loro, no? E gli creiamo dei problemi. Perché dovete capire che ci sono i contorni nel calcio, perché ormai le partite non si giocano più solo nel campo. Ci sono i contorni dove mediaticamente cercano di destabilizzare l'ambiente. Ma è così ragazzi, è sempre stato così. E negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi anni, per far vincere sempre quelli là, ci danno addosso, ci danno addosso. Voi direte, oh il Piangina, oh così, oh l'Eurubentino. Io ragazzi la vedo così. Ma non è che la vedo solo io così. Tanti si sono svegliati. Tanti si sono svegliati e la pensano come me. Solo quella parte, quell'altra mezza parte di Milano, no? Ma cosa volete? Loro sono di quella parte lì e non riuscirai mai a entrare nella loro testa a cercare di fargli capire certe cose. Loro sono sempre ancora lì con sta storia Giuliano Ronaldo, ma in stati in B, quel triplete rubato lì che si sa già come gli ha regalato la Coppa. Loro sono fermi lì, loro non evolvono mai, no? Non riescono a capire certe cose, no? Non riescono a capire che sono avvantaggiati, che hanno tutti quanti che gli parano il culo. E perché vi dico cosa? Perché adesso è venuto fuori un altro nome del Milan, no? Ovviamente per destabilizzare quell'ambiente lì. Adesso, adesso, intanto a Zaniolo, che cazzo hanno fatto? Zaniolo non gli hanno fatto niente, sapete perché? Perché non è venuto la Juventus. Perché Zaniolo, sapete che la Roma chiedeva 40 milioni quella volta che c'era la trattativa con Zaniolo. La Juventus gli ha detto, ma non le farei un culo, 40 milioni per Zaniolo. Vai, 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 vai. Ha fatto bene. Se per caso la Juventus avesse comperato Zaniolo, che Zaniolo fosse adesso nelle file della Juventus, pensate che non se ne parlerebbe mai? Sapete quanti titoloni ancora sui giornali, ancora, 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 da quella volta là? È la mamma di Zaniolo? Chi comanda? Lei o lui? Ma già immagino i titoli. Però siccome lui è il Galatasaray lì, che ormai è una roba, no? Non se ne parla più, che poi non si sa neanche com'è andata a finire la vicenda da Zaniolo, perché nessuno ne parla. Si è parlato di Juventus e Milan, perché uno era la Juventus e quell'altro era il Milan. Adesso ovviamente di nuovo il Milan, ma gli altri 47 nomi che dovevano esserci, no? Perché il bandito rosso e nero ha ragione. Poi gli altri 47 nomi, dove cacchio sono? Perché non vengono fuori anche gli altri nomi? Perché ne fate uno ogni tanto, così, per rompere le pali, sempre alle solite e gli altri nomi non escono mai. Allora c'è malafede. Secondo me è fatto opposta. Se ci ragionate bene è tutto fatto opposta, costruito tutto a tavolino per rompere sempre le scatole a certe determinate squadre. È ovvio. Ragazzi, io la penso così, datemi del piagnone, dite quello che volete, potete scrivere, a me non mi interessa, io la penso così, voi avete la vostra idea. Tanto il tempo, il tempo darà ragione a chi avrà ragione. Comunque Florenzi che mi combini, ma che mi combini, che mi combini. Adesso tiri via, tirano via un altro giocatore al Milan, il Milan dovrà andare sul mercato, perché Florenzi bene o male era uno giocatore duttile. Hanno beccato proprio quello giusto, è perché era un giocatore duttile, poteva giocare in qualsiasi zona del campo, testa, sinistra, il centrale, no? Eh, tacchete, fatto fuori anche quello, no? Bene, bene. Vi ripeto, ormai il calcio si gioca all'esterno, all'esterno. Quelli lì ovviamente, di quelli lì, quando hanno cercato di fare qualche nome loro, è messo a tacere tutto. Corona, quella volta lì ha detto, no, i nomi dell'Inter non posso farli se non mi ammazzano. Cose dette da lui, potete incazzarvi interini, finché volete. Queste sono cose dette dai vostri interisti, come quelli che ho detto in un altro video, che mi avete massacrato, di quello di Ravezzani lì, che vi ho detto che il vostro presidente non può venire in Italia perché ha problemi giudiziari. E quello lì è in galera, quello lì. Potete dire, quel che volete, incazzarvi, quello lì è in galera, quello lì. Ha ragione il Sergio a dire che è in galera. È in galera. E voi tante volte mi chiedete, perché cosa ti cambia? Cambia, 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 cambia. Cambia tante cose. Perché vedere un presidente in galera, vi ricordo, che non è bello. Sapete quanti sponsor perdereste voi? Quanti investitori non investirebbero più sull'Inter, direbbero andare a investire con uno in galera? Vi massacrerebbero. Vi massacrerebbero. Vi massacrerebbero. Pensate bene a quello che vi dico. Se questa è la verità, ma che è la verità? Aspettiamo solo la conferma. Quanti investitori tirerebbero il loro popoci indietro e vi lascerebbero senza questi, perché a voi servono questi in tutte le maniere. Per quello vi cercano di farvi vincere. Non l'avete ancora capito. Perché a voi servono questi. L'unica maniera per tenervi a galla a voi sono le vittorie. Sono le vittorie. Comunque, Florenzi, che mi hai combinato? Che mi hai combinato? Porca miseria. State attenti, no? Quando andate a scommettere. State attenti, porca di una miseria. State attenti e truccatevi qualche parrucca, qualcosa. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Like, campanellina, tutte quelle belle cosine lì. Pollicione, mi raccomando sempre il pollicione, ragazzi. Pollicione che è importantissimo per la iscrizione al canale. Pollicione, ovviamente seguite Michelone, ok? Un bacione, ciao raga.